Siamo alla pista della Pirelli di Vizzola Ticino a provare la nuova C-Max 7 posti. In questo caso abbiamo un diesel da 163 cavalli e un cambio automatico. La cosa che piace di più in assoluto è la gradevolezza di guida. Ford ormai è forte in questo segmento e trasmette una buona precisione di guida, uno sperzo molto pronto e reattivo. Il comfort è migliorato e infatti abbiamo un rollì un pochino più marcato tra le curve. Ma non disturba la piacevolezza di guida. La frenata molto efficace, pedale con un buon mordente e spazi rilevati molto contenuti. La stabilità è molto buona e l'SP interviene solo esagerando con le manovre nei cambi di corsia. Per la prova approfondita vi aspettiamo in edicola sul prossimo numero di gente motore.